Ciao Kinky, dove siamo stati io? Com'è che mi hai chiamato? Kinky Tu saresti finendo? Il testo l'alto Allora... Dead Man Bay Noi andiamo qua a dormire Dead Man Bay Ok? Qua c'ho Marina volendo La baia dell'uomo morto Vieni Mi fermerei qua per fare snorkeling Visto che è raccomandato A Carrot Rock C'è uno spiaggio Dice di ancorare a 4 metri circa Si può fare sia ancoraggio che boh Se no mi aspetto che abbiano ormai Miepito di boh anche lì Quindi non ci sarà molto... Hey Bo! Che che è? Come va? Come va? Tutto bene Stiamo andando? Non so se si sa ancora bene due ore Sono solo 24 nodi di vento Allora! 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 La pasta Poi Quando la pasta è nuola al dente Leggiormente prima scolate Scolate Dopodiché Mischia tutto insieme La pasta è pronta E poi? Poi magna Per la serie Le simpatiche ricette di Desi Parte 2 Ecco il prodotto finale Wow! Non l'abbiamo invitato nessuno qua del barco di scena. No, vai a invitare quelli della Moorings. Desi, racconta chi era quello che stanotte voleva entrare nella nostra barca. Non lo so, mi si è anche scusato, ho detto a un certo punto, amen! Amen! Lo so! Amen! Vero ubriaco? Sì. Sì. Sì, sto filmando. Mi ha ubriacato! Chi ti ha ubriacato? Lui! No! Mezzo bicchia di vodka lemo. Di questi bicchieri, eh! Adesso vado nella mia cabina che la disegno, ho messo a posto. Qual è la mia cabina? Perché mi vede più? Marco, sei una schiappetta. Essere marinale significa che bisogna anche saper bere. Sì. Cioè, fammi capire, io ho dovuto cucinare... Ok. Hai preso la boa. Ho preso la boa. Ho dovuto cucinare. No, quello perché è io. Eh, io mi sono avvicinata col motore. In che modo? Sapientemente. Sapientemente. Ma Marco cosa fa, scusa? Fammi capire, non fa... Urlo quando ho fatto sbagliato. Bo! Eh, non lo so. Io sono bravo, vero? No. Non mi dici delle cose dolci? Prendi lo zucchero. Marco? Dove siamo? Oggi pomeriggio, dopo questa mangiata, si va a Carrot Rock. Io sono bravo nella bocca. No. Qualcosa? Io prendo allora il dinghy e vado da solo. Cheeeeeee. Mamma mia. Ti mettiamo giusto la benzina per arrivare lì. Eh, non per tornare. Che bastardi. Comunque la carbonara non è buona perché non posso dire niente. Però ho fatto la c***a. Ho aggiunto anche il bianco del bianco. Nooo. Eh, qua bisogna fare un inchino al nostro chef. Ciao. Boccagroie. Corso. Eh, va bene! Allora,ova,va. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono solo 20 nodi. Falla corre a 6 nodi. Faccio vedere dove dobbiamo passare? Ecco il cupolato. E' una serie simpatici cocktail di Marco. Cosa ci ha preparato Marco? Cuba Libre. Chi è stato l'istruttore? Buongiorno. Buongiorno. Chi racconta la nostra avventura di oggi? Chi ci ha mandato in mezzo al mare con 6 metri d'onda e tutto il resto? Buongiorno. Cosa ci ha detto di un pericolo? No. Un pericolo, ma perché ce l'ho io di un mare? Insomma, la desi chat è anche avventura. Perché volete andare a motore da un'isola all'altra e fare snorkeling e basta, no? No. Dai, allora, andiamo. Salute! Amore, dai che si scalda il ghiaccio non bisogna sfruttare quel pomo che ci hanno ottenuto 6 dollari costa il ghiaccio Questi cotti qua ci sono stati Mi ghiaccio perché Certo Siree, cosa hai buttato via Cuba Libro? Non piangere Non ti bevo il tuo Io c'è poco dei droga, poco Cuba Molto Libro Che schifezza Sì Sì Ti prego Ti prego, fammi un rimpingo Questa sporca Io sono qui con le cartine A capire dove fare acqua Dove fare full Si, l'acqua l'hai fatta sul tavolo Ma che acqua quello è? Cuba Libro No, si è attaccato sul getto Ok? Meno male che io non abitiamo molto vicino Perché sennò Sarebbe stato tutto arcolizzato Sarebbe un disastro Certo? Capitan Marco Spanaro Allora Guarda che io sto avvolgendo Sarebbe quando mi pare Ma che c'è forza? Ma che c'è forza? Dove siamo Marco? Siamo a Cooper Highland Siamo a Cooper Highland Cooper Highland Musica Desi, allora ti noti in sicumera? Eh? Eh? E' una botta avanti! E' così che ho preso il verde? Com'è così? Eh, bravo! E' una botta cercando di mettere insieme un cubo. Un magico! E' pagato la domanda! Ma nel frattempo ne approfittiamo per una chiave! E' pagato la domanda! E' pagato la domanda! E' pagato la domanda! E' pagato la domanda!